Nel Vicentino, ora dove nel comune di Val Liona, questo pomeriggio c'è stato l'ennesimo morto per lavoro. Un operaio di 44 anni che stava lavorando su un traliccio dell'alta tensione precipitato a terra da un'altezza di 12 metri. L'uomo di origini campane è deceduto sul colpo, sul posto anche carabinieri e personale dello Spisal. Sale così a 22 il numero dei morti sul lavoro solo in Veneto dall'inizio dell'anno. Un'emergenza che pare infinita, se ne occuperà da domani a giovedì 12 aprile anche la nostra testata, la TGR, con una serie di servizi in tutte le edizioni del telegiornale. Il titolo della campagna è appunto Sicurezza sul lavoro.